Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Valdichiana e Monte San Savino. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Turni stanotte in A1 in orario 22.6, chiuso lo svincolo di Firenze-Scandici in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina Firenze fino a domani in via Buia, strada chiusa tra via Chiantigiana e fine strada. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!